La nostra epoca, comunque noi vogliamo intenderla, ha come grande mito fondativo, come grande orizzonte di senso, quello di una libertà incondizionata, nel vero senso della parola, cioè senza condizioni. Il presupposto è che vi sia una sorta di individuo assoluto, slegato da vincoli di appartenenza con la tradizione, come prima si diceva, con la comunità, con la propria storia, con la propria provenienza, con la propria vicenda storica e che sia totalmente chiamato a fare di sé e del mondo ciò che vuole, secondo il proprio capriccio. Ora, così intesa in verità, la libertà, o meglio l'inganno della libertà, andrebbe meglio inquadrato come inganno della licenza. pensare che la libertà sia né più né meno che il capriccio dell'individuo che può fare tutto ciò che vuole incondizionatamente. Ora, il grande Hegel, nelle sue lezioni che poi vennero pubblicate in parte con il titolo Lineamenti di filosofia del diritto nel 1821, già aveva preso posizione contro questa falsa idea della libertà, quello che appunto viene chiamato l'inganno della libertà, perché spiegava che una libertà così intesa in realtà è il capriccio, è il capriccio dell'individuo che pensa a sé stesso come baricentro assoluto e ritiene di poter fare indistintamente, incondizionatamente tutto ciò che vuole. Ma la vera libertà, in vero, dice Hegel, riguarda una comunità, riguarda una relazione etica sostanziale tra individui che si riconoscono come appartenenti a una comunità, a una storia, a un ethos, dice Hegel, e che rispondono di questa loro vicenda comunitaria e storica. Per cui la libertà non è il capriccio dell'individuo, ma è una relazione tra soggetti. Occorre insistere su questo tema in un'epoca che tende a ridurre tutto alla forma merce e che quindi finisce in ultimo per pensare che anche la libertà sia una sorta di tesaurizzazione di una merce particolare di cui l'individuo dispone. La libertà in realtà è una relazione, è una relazione all'interno di uno spazio concreto, temporale, è una relazione tra individui che si sanno parti di una comunità. Non basta che occupino uno spazio fisico, che pure è condizione necessaria perché ci sia una comunità, occorre anche che sappiano di appartenere a una comunità.